Jacopo era un matto, era un matto sano però perché era un ragazzo che amava la vita, era un ragazzo che voleva vivere il tempo fino in fondo e era uno che proprio aveva fatto del motto Cogli l'attimo, era proprio il suo motto e quindi gli piaceva mettersi in gioco, gli piaceva confrontarsi prima di tutto con se stesso, noi lo conosciamo da quando era un ragazzino, è stato insieme con Ervis e Rukai il nostro primo pugile loro due sono stati i nostri due primi pugili nella palestra Audax e chiaramente adesso perdiamo un figlio per noi Nella vita di tutti i giorni che ragazzo era Jacopo? Jacopo era un ragazzo serio, era una persona seria però anche irruento, delle volte aveva degli atteggiamenti che andavano al di sopra delle righe e questo lo caratterizzavano immediatamente rispetto alla media dei ragazzi della sua età perché comunque non era uno che non fumava, non beveva, gli piaceva la vita sana e quindi si distingueva in questo dai ragazzi della sua compagnia però era anche molto socievole e quindi faceva amicizia facilmente e aveva un forte legame con i suoi amici, era anche uno che sapeva essere leader in un gruppo, aveva un bel carattere, era un punto di riferimento A nome della società che rappresento, l'Audax Box, colgo l'occasione per esprimere le nostre più sentite condoglianze a tutta la sua famiglia